Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti tipo gocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato bianco, zucchero, burro, farina di tipo 00, amido di mais, uovo e tuorlo, cacao amaro, lievito per dolci, bicarbonato e gocce di cioccolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e il cioccolato bianco. E li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 3. Aggiungere l'uovo e il tuorlo, il cacao ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina, l'amido di mais, il lievito e un pizzico di bicarbonato. ed azioniamo il bimbi per 2 minuti in modalità spiga. Aggiungere le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, anti-orario, velocità 1. l'impasto è pronto, formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola trasparente e riporre in frigo per un'ora. trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso stendiamolo tra due fogli di carta da forno. con uno stampo a forma di goccia tagliamo i nostri biscotti. mettiamo qualche goccia di cioccolato e posizioniamo su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per il resto del composto. cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti circa. i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia. biscotti tipo gocciole grazie e alla prossima ricetta buona preriscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti circa. grazie a tutti